Salve ragazzi e bentornati su WorldGamesTube per questa seconda parte delle missioni bonus da fare a 3 stelle le 5 missioni che ci scevano le 3 stelle oggi proviamo trappole per fantasmi in questa missione dobbiamo liberare da dentro delle gabbie che dovremo far esplodere con le solite bombe che ci sono un po' in diverse sfide dei teneri fantasmi, dei fantasmi molto buoni, molto tranquilli che però sono stati imprigionati dai gribbler mi pare l'obiettivo sarà soccorrere tutti i fantasmi e liberarli questi sono i nemici che troveremo in maggior parte insieme ai cannoni che sparano il ghiaccio dobbiamo usare le bombe per aprire le gabbie come al solito niente di troppo nuovo ho scelto Rattleshake perché avevo già provato a registrare questa puntata e ho perso un po' di tempo per niente perché praticamente mi è andata male, mi sono un po' distratto, l'ho preso un po' sotto gamba e mi ricordo che era stata molto divertente questa sfida ma non che era stata così facile in questa volta ho scelto di prendere Rattleshake con cui ho comunque un buon rapporto, mi piace parecchio e voglio provarlo meglio abbiamo pochi secondi questo non l'avevo ancora provato neanche in azione, questo potere l'avevo serpentello andiamo, ho fatto anche il level up, il livello 15 vediamo un po' cosa c'è qua da fare prendiamo le monetine perché siamo già con il moltiplicatore 8 e sono molto utili cominciamo sempre negli altri episodi qui sono riuscito a schivare benino, cerchiamo di distruggere i canoni per rialzare i moltiplicatori bellissimo questo attacco qui cerchiamo di allontanare con le code i nostri avversari direi che il serpentino è veramente prezioso e liberiamo anche il quarto fantasma siamo a moltiplicatore massimo e volevo vedere cosa c'era qua sotto perfetto, 50 punti moltiplicati per 3 eh, per 10 non so da dove mi sia uscito questo è importantissimo, liberare questo fantasma l'altra volta ho fallito per questo motivo perché l'avevo lasciato indietro divertiamoci un po' su questi poveri omini pericolosissima la corrente d'aria qui è eliminato, allora qui dobbiamo saltare dentro prendere, poi ci diamo la spinta andiamo a sopassare quest'altra corrente perfetto perfetto questo bellissimo colpo a salire con la colonna di ossa un altro po' di monetine preziose stiamo andando bene come punti, credo qui mi sono liberato dalla prima gabbia, questi li uccidiamo perché ci danno più punti ok, ora dobbiamo tornare indietro fondamentale aprire quest'altra gabbia devo dire che ne mancava una sola dopo questa qui e abbiamo ancora un minuto di tempo, quindi veramente molto buona questa prestazione me lo dico da solo questo se riesco a schivarlo, perfetto vorrei togliere di mezzo uno dei due cannoni ahia, mi è arrivato un 100 o qualcosa 119 di nuovo, bene moltiplicatore solo a 8 ah, però siamo praticamente arrivati alla fine, quindi devono accogliere anche queste ultime monete è importante anche quanto tempo conservate quindi non state a perderne e a cercare di finire subito il più veloce possibile i fantasmi sono liberi sembrano spaventosamente felici 44.000 punti bonus per il tempo vediamo quanto arriviamo allora, 255 non è il record precedente da 273 ma è superiore a 240.000 quindi va bene comunque così va bene lo stesso questa prestazione ora vediamo il quinto livello che io ho giocato che poi io vi consiglio che mi sono piaciuti questi livelli se non vi piacciono non fateli insomma e riguarda la sconfitta di questi ciclopi che rubano dei dei triangolini verdi hanno rubato queste gemme e noi dobbiamo sconfiggere i ciclopi 9 o 10, non mi ricordo per riconquistare incontriamo un sacco di maghetti e anche per questo motivo è molto buono il serpentello di rattleshake perché credo possa colpire nemici invisibili ecco perfetto sono partito bene questo è il primo cristallino il potere di rattleshake li consente anche di raccogliere le monete grazie a il serpentello che appunto serve a raccogliere le monete quindi non male questo lo lo fenestriamo così qua si vede un ciclopi che attacca e subisce la mia ira ammazziamo pure te siamo già con un moltiplicatore 8 fantastico io non sono riuscito ad evocare purtroppo cattivo qui il potere dello stregotto dei non morti ci torna quasi utile perché possiamo sconfiggere più nemici se lui li evoca non c'è qui niente in giro allora fondamentale quando dico fondamentale vuol dire fondamentale uccidere subito lo stregotto nella vita anche velocemente qua non so neanche perché ci può attaccare lui è tornato con lo scudo peccato questa è una cagata basta schivare e attaccare perfetto mettiamo con il moltiplicatore a 9 non vogliamo farci colpire quindi sconfiggiamo con calma i cannoni ci apriamo la strada qua che non abbiamo comunque tutta questa fretta piuttosto che farci colpire è meglio andare con calma perfetto prendiamo subito di mira lo stregotto che cura questo non è andato a segno bene così ah guarda che c'è qui dietro magari muori anche quanta vita c'è o qualcosa e qui purtroppo è stato curato da uno stregotto della vita anche questo è stato curato per cavolo sai qua dietro state molto attenti a questi cavolo di stregotti verdi perché vi rovineranno la partita io c'è pure quello del vento che dà fastidio questi almeno sono feriti quindi ora li possiamo sconfiggere sto passando in mezzo dei colpi di vento che non sto vedendo neanche perfetto doppia miss tocca a me contraattaccarmi hai colpito io ho colpito voi è perfetto settimo cristallino ora manca l'aria con due nemici e saranno gli ultimi due qui dietro se mi ricordo bene ci sono dei soldi che cavolo grazie serpentino bisogna usarlo più spesso serpentino ho fatto una K.O questo K.O attaccatemi bravissimi dammi il pezzo dammi il pezzo fine laggo un sacco di punti la su 262 vediamo se sono sufficienti non è assolutamente una missione facile però è molto divertente secondo me credo di averla affrontata abbastanza bene con Rattel Shake ci sono 30.000 punti bonus per il tempo 263.254 è proprio risicato l'altra volta non so come è possibile ho fatto 354.000 ho fatto un punteggio assurdo comunque 13.000 punti in più sono sufficienti per passare di livello ci accontentiamo e torniamo a Tana del Bosco io adesso penso che andrò a comprare i potenziamenti per Rattel Shake perché mi compro l'armatura per la parte sopra la muta quella che dice che dopo ho puntato i danni subiti fa la muta che mi sembra molto interessante e i prossimi video credo che saranno sulla modalità punteggio oppure su l'attacco al tempo adesso vedrò mi è tornato a Tana del Bosco mi è tornato a Tana del Bosco mi è tornato a Tana del Bosco sì ma non puoi fare niente semplicemente mi devi lasciare andare in giro ah deve salvare sta salvando e caricando ok bene io ho fatto giusto quei 5000 punti mentre aspettavo 6000 punti anche quindi adesso penso che mi godo il doppio potenziamento anzi quindi finisco anche Rattel Shake se mi fate compagnia ancora 30 secondi lo vediamo insieme che si completa in sostanza perché dopo aver comprato questo comprerò anche l'altro madonna è diventato brutto però così così però mi piace meno cioè perché ha cambiato colore era più bello giallo peccato ed ecco l'ho potenziato a massimo comunque questo dice che aumenta anche la velocità quindi forse questo qui aumenta i danni vediamo aumenta il colpo critico e assorbe i danni subito i danni cambia pelle dopo un po' di tempere una pelle nuova peccato mi piacerebbe provarlo ma non posso usare sempre lo stesso personaggio quindi aumenta i critici non è che ne stai facendo molti però 16-24 di critico mi saluto bene con questo sterminio sulle pecore adesso io vi saluto qui c'ero già stato non mi ricordo se c'ero stato o no in un video però possiamo anche rivederlo anche se so io non mi siamo ancora a 3 shaker ci comprerò poi delle delle emissioni o qualcosa del genere dei contenuti bonus e niente dai oggi finiamo qui la prossima sarà appunto la modalità punteggio attacco al tempo a seconda di quello che mi ispira di più rimanete sempre sul nostro canale visitate anche gli altri ciao ragazzi buon proseguimento a seconda di